Questo libro che io ho da tanti anni e di cui ho conosciuto l'autrice che si chiama Goliarda Sapienza, una siciliana figlia di sindacalisti, il libro si chiama Lettera Aperta e per me è un bellissimo libro, un libro che si può leggere anche oggi come se fosse stato scritto l'alto ieri o proprio oggi